Ci spostiamo un attimino e andiamo a mandare le maledizioni con Antonella Mollica e Rossella Malpelo! Questa sera vi parleremo delle origini siciliane, perché nonostante la laurea, nonostante tu ti sia trasferito al nord, le tue origini verranno fuori, soprattutto quando ti faranno girare i coglioni! Scusate, parleremo di linguaggi tramandati da padre in figlio, linguaggi usati tra marito e moglie, linguaggi usati da mezzia e rosina a mezzucola! Cimio di casca, sono i denti! Forte infiammazione dei tessuti gengivali, con conseguente caduta dei denti, impossibilità di addentrare il cibo, per sopravvivere bisognerà ricorrere alla cannuccia! Cimio di venisse una malattia rara e che mi giovasse in un medico sciacco! Rarissima malattia che provoca un malessere generale nel corpo e non riuscire a trovare né rimedio né cure! La povera vittima, cercando aiuto, troverà solo dei medici non all'altezza della situazione, peggiorando lo stato malato! Rarissima malattia! A mi si ammora a lampado! Arresto cardiaco procurato da una morte improvvisa, come un fulmine a ciel sereno! Santa Luciuzzo deve fare un'orbarra di tutti gli occhi! Preghiera rivolta a Santa Lucia, protettrice della vista, implorando il suo intervento, procurando una permanente cecità alla persona in questione. colpendo possibilmente entrambi gli occhi. Chiamma di bruciare il suo culo! Bruciore che comprende la parte anale con conseguente bisogno di refrigerio. Il malcapitato passerà interi giorni e intere notti con il sedere a mollo in acqua fresca la durata varia da tre settimane a otto mesi oh cazzo ma la norma dicitura volgare che lascia intendere ad una visione dell'organo riproduttivo maschile talmente ravvicinata e grandiosa che al malcapitato annebbia la vista dalla paura o dallo sconforto con conseguente calo di pressione arteriosa la leggenda narra che si tratta del pene di Rocco Siffredi ma se venisse un corpo di cagaredda e mo non giugasse un campanetto forti dolori addominali notturni e diurni accompagnati con spasmi alla coliciste basta gamma di aereofagie che passano da rumorosi a odori poco gradevoli con ingenti feci liquide il soggetto non potrà dare sfogo a questo disturbo a causa di una mancata toilette e non gli resterà altro che trattenersi a denti stretti chi mi divenisse una forte frere con sudore, scantolio e visione maligni morbo con alte temperature accompagnato da spasmi, dolori muscolari tremolio e visioni apocalittiche con diavoli dalle sembianze del coniuge nooo me moglie nooo e potete resta a morte, ti vedi? ciao sono la morte forza dammi sti pari che ci attivano a me forza amore forza forza amore grazie